Di un caro amico, grande esperienza nel mondo dello sport, perché è quello che poi porta quando si ha a che fare con lo sport, con l'atleta, con la disciplina dello sport, la vera e propria disciplina, ti dici ma un campione del mondo come faccio a migliorarlo? Bella domanda. Però io dico, chi fa quello che tu fai e quello che fanno tanti altri medici sportivi è secondo me mantenere la performance, che è ancora più importante. Buonasera a tutti. Grazie, Andrea Savini. Grazie. Cercherò di essere sintetico, anche perché dopo tante illustri letture magistrali diventa un po' difficile incuriosire. sta di fatto che, vabbè, incarno sostanzialmente la possibilità del cambiamento. Arrivo da una storia che è un po' imbustata, come un po' imbustata la nostra medicina tendenzialmente. Però per dirvi, in sintesi, insomma, chi seguo, ho l'honor e l'onore di lavorare con le ragazze della ginnastica ritmica, che sono un po' delle figlie per me. Ho anche il piacere di lavorare con il blocco milanese della Nazionale di Patinaggio sul ghiaccio. Arrivo da qui, sembrerà strano, ma 35 kg fa anch'io ero in sella a una bicicletta. Poi purtroppo sono diventato il caso controllo, cioè ciò che non bisogna essere. Vabbè, lavoro con i ragazzi comunque della Nazionale, ma perché dico il cambiamento? Perché ho avuto anche l'honore e in parte anche il piacere di stare anche dall'altra parte della barricata per capire effettivamente alcune cose. E quindi mi sono trovato a gestire, in Pfizer, che penso la stragrande maggioranza di voi conosco chi sia, che conosca che tipo di azienda sia, ho gestito mezza Europa. E da qui ho capito che il paradigma si poteva cambiare, quindi passare dalla terapia alla prevenzione. Anche perché se noi prendiamo il nostro percorso accademico, fondamentalmente i cluster sono patologia, diagnosi e terapia. Terapia, insomma, da valutare visto anche quanto si studia di farmacologia. Ma poi alla fine, al di là dell'effetto della terapia, abbiamo anche a che fare con le collateralità. Da qui il lavoro e il pensiero di, una volta lasciata Pfizer per una serie di motivi con i quali non vi voglio ammorbare, ma anche fare una riflessione di origine socio-economica che riguarda appunto la prevenzione. Perché questo è un dato dell'Ocse, tra l'altro del 2013, quindi non è un dato qualsiasi, dove dice che fatto 100 il budget del sistema sanitario nazionale, l'Italia investe da buona ultima ma praticamente una percentuale irrisoria del proprio budget. Avanti, 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 avanti. Ce la facciamo, ok. Quindi, non tocco il tastino per non scombinare le cose, quindi 0,5% Italia in termini di prevenzione, che è un dato interessante, soprattutto se lo consideriamo con il dato 2019 che è ancora inferiore. Ora, immagino ci siano i medici di famiglia, oggi non è possibile fare prevenzione, addirittura diventa difficile fare terapia o addirittura fare diagnosi. Io non entro nel merito perché io l'ho preso così come dato. E' chiaro che qui parliamo di prevenzione, diciamo, quella casareccia, quella dove ogni tanto vedi pubblicità, cura del ministero, questa intendevo, perché poi se andiamo su quella fine, beh, probabilmente entriamo nell'ordine dello 0,0000. Sta di fatto che non c'è neanche questa, quindi oggi diventa difficile fare diagnosi, diventa difficile fare terapia, figuriamoci, investire sulla prevenzione. E quindi, diciamo, siccome la mia materia in università è comunque la fisiologia, cerco anche, comunque ai ragazzi, di far passare un concetto di una fisiologia dinamica, di non dimenticarsela, perché poi molto spesso, quando si è seduti alla scrivania, si guardano i protocolli, le linee guida, le indicazioni che si ricevono più o meno, come dire, imperitoriamente da parte delle ASL, ma sostanzialmente poi ci si dimenticano alcune cose. Questa è l'assalto, ovviamente. Cosa, siccome mi occupo anche di nutrizione e integrazione dello sport con gli atleti, che cosa mi ha altamente incuriosito quando Giorgio mi ha parlato di S-Drive? Del fatto che l'industria alimentare usa all'incirca 40.000 prodotti chimici. Il problema vero dell'industria farmaceutica non è il farmaco, è che controlla le aziende alimentari. Questo può essere un piccolo problema, no? Add on. Quindi da qui ho detto, bene, se è vero come è vero che da più parti si sente dire che comunque i fattori esterni agiscono negativamente sull'ambiente uomo, andiamo a capire che cosa fa questo benedetto S-Drive. Giusto Giorgio? Non ci ha messo molto a convincermi, questa cosa mi ha preoccupato. Però sta di fatto che vi ho portato giusto tre casi, in maniera piuttosto superficiale, ma giusto per dire che cosa con atleti professionisti di altissimo livello si riesce comunque a fare con S-Drive. Questo sia dal punto di vista sportivo, poi a latere ho più o meno un 50% del mio tempo lavoro che comunque dedico a persone che hanno patologie piuttosto complesse, quindi dall'oncologico, al paziente con problemi immunitari e quindi quello che sostanzialmente è la gestione della persona nel suo stato di benessere. Quindi questo è un po' un modello estremo, ma in effetti si possono fare delle buone cose. Io ho scelto poi di abbracciare le medicine non convenzionali, mantenendo ovviamente la medicina allopatica come punto di riferimento, ma seguendo un po' quello che è la logica dell'OMS, cioè l'aggregazione tra medicine. Bene, il primo caso è sostanzialmente una condizione normale. Un atleta giovane di 21 anni, sta bene, che aveva una leggera difficoltà nel recupero dallo sforzo. Ovviamente il miglioramento del recupero era l'obiettivo primario e in secondo luogo, cosa importantissima per un atleta, ridurre la probabilità di incorrere in infortuni. Bene, quello che è emerso sostanzialmente dal test come priorità erano la sintesi proteica, il metabolismo degli acidi grassi, le emozioni e il metabolismo degli zuccheri. Ora, quanto tempo ha Giorgio? Ma no, c'hai 20 minuti buoni. 20 minuti buoni. Da adesso? Pensa. Allora, sostanzialmente si sono evidenziate... Il mio orario? Sono evidenziate degli stati di attenzione sul gruppo delle vitamine B. Per quanto riguarda il discorso litio, cioè, diciamo, mi è saltato un attimino all'occhio questo dato, che comunque è un consiglio di attenzione. La parte, comunque, lipidomica, dove sostanzialmente c'era da fare attenzione all'arachidonico e all'inoleico, all'alfalinoleico. La parte, ovviamente, amminacidica. Questa è una parte dove per un atleta entriamo in un ambito particolarmente importante, perché sintesi proteica, tutto ciò che comunque ne deriva, deve essere sempre mantenuto ai massimi livelli. E quindi qui, comunque, si evidenzia un aspetto comunque di priorità. La cosa importante è che poi, andando a valutare i campi di resistenza, vengono fuori dei post-virus. E quindi dice, beh, un intestino che apparentemente funziona bene, un organismo che teoricamente, dal punto di vista funzionale, non ha problemi, però è un campo di attenzione. Bene. Fortunatamente, da questo punto di vista, non c'erano dei problemi, che è un caso più unico, che è raro. Quindi dal punto di vista, diciamo, ambientale, non c'erano radiazioni, metalli pesanti o quant'altro. Sulle frequenze, nonostante un atleta molto giovane, c'era un uso parco dei sistemi vari, quindi cellulari, tablet, computer e quant'altro. E quindi anche qui abbiamo fatto una riflessione per cercare di evitare che poi ci fosse un peggioramento nel tempo. e la valutazione di quelli che sono stati, appunto, gli additivi alimentari, ai quali, per onestà, non avevo assolutamente prestato attenzione. Questo poi è diventato un vulnus per me nel secondo caso. Quindi sostanzialmente, grazie all'S-Drive, sono andato comunque a valutare anche la parte comunque aminoacidica, che diventa difficile poi andare a investigare differentemente. E quindi abbiamo pensato comunque di fare una pulizia intestinale, non dico con cosa, ho usato poi un discorso di riequilibrio pre-probiotici, siamo andati a rivalutare parte dell'alimentazione e è chiaro che tutto il discorso dell'ossigenazione, dell'ottimizzazione mitocondriale, produzione di energie e quant'altro, oltre che dal punto di vista anche antiossidante, diventava importantissimo. Siamo andati a lavorare sulla quota aminoacidica, sulla modulazione dei grassi e, diciamo, ho dato una mano al gruppo delle vitamine B, soprattutto per facilitare il lavoro di metabolismo degli zuccheri. risultato, ad oggi, sono passati un po' di mesi, non ha avuto comunque incidenti muscolari e sostanzialmente ha minori, diciamo, difficoltà nel recupero. Caso semplicissimo. Il caso problematico invece è stato questo. 18 anni, una ragazza allegra, solare, divertente, piena di energia, improvvisamente si è spenta. e quindi ci siamo ritrovati anche con lo staff della federazione ad avere una condizione di spossatezza, esasperata, mancanza di energie, molto irritabile e una mancanza di forza muscolare. Al che davanti a questo quadro, prima cosa, andiamo a fare un po' di esami. quello che era emerso era per un atleta un dato assolutamente, per una donna comunque sotto i 500 come parametro, quindi un dato che ci stava tranquillamente, e una vitamina D a 13, quindi un dato decisamente basso. Per il resto, anche il TAS comunque non aveva, non dava indicazioni particolari e io ho incominciato a grattarmi la testa, perché ho detto, beh, cerchiamo di capire morale. Ho fatto un riferimento alla B6, negli atleti, perché nell'atleta la B6 è un indicatore esattamente come per il CPK. E il problema dell'interpretazione della B6 è che sia in fase di carenza che in fase di eccedenza sostanzialmente dà la medesima sintomatologia. sta di fatto che fatto il test drive, il test drive, sì, il test drive, l'est drive è emerso il sistema ormonale, quello muscolo-scheletrico, il metabolismo degli zuccheri e la sintesi proteica. Allora, non entro più di tanto nelle slide, però sicuramente su una cosa entro. Allora, il valore ematico diceva che la vitamina B6 non rappresentava un problema, mentre invece qui segnala la vitamina B6. la vitamina D la dava come carente a livello ematico e il test drive sostanzialmente la dà come un valore stabile. Allora, ragionando in un'ottica fisiologica, ho incominciato a pensare ma c'è una differenza tra il valore ematico e il valore tessutale? Probabilmente sì. Sta di fatto che incomincio a fare una considerazione differente, cioè lascio accantengo buono e accantono comunque per un momento il dato ematico e incomincio a riflettere su quello che è il dispendio, cioè l'utilizzo che l'atleta fa della sostanza o dell'elemento. Benissimo. Altre condizioni particolari non ce ne sono se non comunque la necessità di andare a lavorare sul quadro lipidomico ma niente di così particolarmente significativo quantomeno dal mio punto di vista. A livello amminacidico non c'erano assolutamente problemi, problemi virus a livello intestinale, vabbè, un po' di problemi a livello di frequenze e quindi ho cercato di capire come si comportava visto che è uscito il forno microonde e lei mi ha detto che quando scalda gli alimenti col forno microonde si mette davanti al forno microonde e osserva, gli ho detto che forse non era la scelta migliore. Comunque, al di là di questo, sono emersi questi additivi alimentari quindi in sé ho detto vabbè, siccome c'era comunque la necessità di aumentare la parte fitoestrogenica ho dato un po' di soia dal punto di vista alimentare, self-food, chiaramente, amminoacidi, modulazione degli acidi grassi, pulizia intestinale e quant'altro. Sta di fatto che comunque c'era un'attesa nel risultato che purtroppo non c'è stata. Non c'è stata dopo una settimana, non si incominciava a vedere nessun indice di miglioramento, dopo due, dopo tre, dopo un mese siamo andati al follow up e sostanzialmente il miglioramento non era tangibile. Ora, ho chiesto aiuto e quindi ho chiamato un amico endocrinologo e gli ho detto senti, aiutami a capire. Visto che comunque si parlava di quadro ormonale cerchiamo di capire N approfondimenti, risultati zero. Anche io ho detto cosa ho sbagliato e sono andato a riprendermi il test e dal test ho detto l'unica cosa che ho sottovalutato è stata questa. Bene, ne ho parlato con lo staff della federazione, mi hanno guardato come se fossero psicopatico, ho detto, beh, mi avete dato fiducia per un mese con questa ragazza dopo anni che comunque la seguo, le seguo, datemi ancora un paio di settimane. Al che, che cosa ho fatto? Mi sono letto bene chi sono questi signori, sono andato sul sito dell'EFSA e mi sono tirato fuori per ogni singolo, diciamo, per ogni singola sostanza dove fossero presenti. e a quel punto ho incrociato sostanzialmente quello che era l'abitudine alimentare della ragazza con questo morale per sintetizzare. Eliminato il pan bauletto, tolto il prosciutto crudo e la bresaola, eliminata la frutta essiccata e chiesto per favore di sbucciare la frutta quando la mangiava perché la gomma lacca comunque è presente per bene su tutti i frutti, mediamente sulla maggior parte, beh, la ragazza ha iniziato a star meglio. Quindi da quel momento il quadro comunque sulle, diciamo, il quadro degli additivi alimentari per me non dico che è diventato il primo elemento di valutazione ma sicuramente è diventato uno dei primi sicuramente da non sottovalutare. Quindi venendo al discorso dell'epigenetica perché purtroppo se ne parla tantissimo ma spesso tanti ne parlano senza sapere di che cosa parlano io faccio spesso riferimento per cercare di creare cultura all'interno soprattutto delle società sportive prima ancora che nelle federazioni per rendersi consapevoli che è l'ambiente che può determinare dei grossi problemi. quindi sto cercando nel mio piccolo di aiutare un senso di maggiore responsabilità e di consapevolezza. Alcune persone in seno alle società sportive e alle federazioni soprattutto donne tendono ad essere quantomeno più accoglienti nei confronti di questa considerazione in altre realtà più maschili si va un po' oltre ma non demordiamo. l'ultimo aspetto che così ho deciso di portare riguarda un ragazzo di 29 anni abituato a vincere potentissimo che d'improvviso ha avuto non un calo della performance praticamente sia azzerato sia come atleta che anche come diciamo persona nella sua vigoria parlando con la sua ragazza mi ha detto boh non so cosa è successo. Bene facciamo il test e quello che emerge è il sistema adrenergico mi focalizzo su questo sistema adrenergico insomma frequenza cardiaca stabile valori pressori stabili senza nessun problema e dico ma sto adrenergico dove è che sta lavorando? E al che scavando 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 siccome qui è venuto fuori anche il discorso della salute cerebrale ho cercato di capire se c'era qualcosa che lo innervosiva lo facesse star male adesso non entro nel dettaglio ma sostanzialmente sono emersi dei fattori che in effetti portavano la sua il suo equilibrio mentale e anche la sua capacità di performance a performare al meglio sta di fatto che a quel punto siccome credo molto avendo comunque approfondito tutta la logica della medicina psicosomatica anche nell'aiuto di professionisti che possono dare un supporto uno chiaramente la parte psicologica due a volte quando le persone sono competenti capaci e ben preparate anche in termini di counseling c'è una persona alla quale mi affido solitamente e gli ho detto senti cerchiamo di trovare la soluzione al problema perché il problema era noto a un certo punto quindi più che andare ad investigare si trattava di trovare degli esercizi che l'atleta utilizzasse per uscire comunque allo scoperto da una condizione non confortevole e lo potesse portare ad essere il vecchio comunque campione vecchio insomma vecchio 29 anni sta di fatto che oltre che a lavorare sulla parte comunque antiossidante vabbè vado comunque a concludere quello che è emerso sicuramente era anche una forza una forza presente di presenza di metalli pesanti metalli pesanti che molto frequentemente vengono sottovalutati ma che purtroppo hanno degli impatti anche a livello cognitivo e a livello dell'umore quindi a quel punto la prima la priorità uno è stata quella di andare a fare un chelaggio dei metalli pesanti ok dopodiché ovviamente abbiamo lavorato sulla parte intestinale self food non manca mai perché gli atleti hanno nell'ossigenazione uno degli elementi fondamentali e poi qualcuno ripillerà però al magnesio oltre che al supporto del counselor ho associato dei fiori di bacca ai fiori australiani io ricordo che sorridevo quando vedevo sentivo parlare di fiori di bacca ai fiori australiani dicevo non scherziamo ok proprio perché l'abitudine era quella no molecola recettore saturazione effetto poi ci si dimentica a volte soprattutto in fisiologia se non ci si dimenticasse la fisiologia che la logica del segnale viaggia su concentrazioni bassissime allora non è forse coerente pensare a una logica di segnale laddove sia percorribile piuttosto che dire non funziona perché io ho visto io soffrivo di asma allergica chi ha curato la mia asma è stato il ginecologo di mia moglie quando è nata mia figlia mi ha curato con l'omeopatia non so se lo conoscete Vanni Zacchi gli ho detto Vanni dai non farmi ridere lui mi fa tu fidati poi al limite non funziona quello che ho capito è che grazie a lui che è la diagnosi corretta che fa diciamo l'efficacia nella terapia poi va da sé che se serve l'antibiotico lo steroide piuttosto che quello che è ovviamente lo dobbiamo utilizzare però sta di fatto che con grande attenzione anche alla parte doping perché un atleta ovviamente deve essere curato e attenzionato con grande come dire cautela onde evitare squalifiche quant'altro perché poi verrebbero prendere comunque noi a quel punto siamo riusciti a portarlo in un'area di maggior conforto e di prestazione questo per dire che cosa in maniera molto semplice e sintetica che se io avessi dovuto seguire l'iter anamnestico coerente diciamo e solito per certo certi aspetti che sono riuscito comunque a identificare grazie a S-Drive non sarei riuscito neanche minimamente a identificarli anzi ad immaginarli quindi ritengo che la mia 5 minuti 5 minuti no praticamente sto concludendo devo ringraziare Giorgio che oltre che farmi conoscere Cell Food tempo addietro poi mi ha comunque guidato verso S-Drive ma è un grazie che condividono anche tutti gli atleti e non solo gli atleti con i quali fondamentalmente ho l'onere e soprattutto il piacere di lavorare e collaborare perché si rendono loro stessi conto del fatto che dove molto spesso la capacità investigativa e di conseguente poi intervento della medicina convenzionale fra virgolette convenzionale a volte incontra alcuni limiti con S-Drive si riesce ad andare oltre adesso non mi viene in italiano ah sì superare delle condizioni che differentemente io ammetto poi la mia la mia come dire immanente ignoranza in confronto alla materia in generis evidentemente non sarai riuscito a dar supporto non c'è più niente di non c'è nulla di più come dire negativo a livello di feeling di sconfitta di quando non si riesce io non riesco comunque a dare un contributo alla persona che chiede la mia consulenza anche perché poi alla fine anche con l'atleta seguo anche tanti atleti amatoriali seguo anche diciamo le nuove leve ma io parto sempre da questo paradigma salute uguale performance performance uguale salute quindi tutti gli atleti che si siedono di qualsiasi livello siano sanno che prima di pensare alla performance devono pensare a una corretta educazione e a un corretto metodo di vita quindi a quel punto bisogna essere veramente attenti nelle scelte quotidiane e anche nel che cosa si decide di fare perché poi un giorno come diceva mio padre le pagherai tutte aveva ragione vecchio medico saggio però questo è un po' quello che dove sono supportato e aiutato Sdrive effettivamente per me è stato un grande grandissimo aiuto quindi grazie grazie a Giorgio